Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sono GabboGamer Oggi andremo a fare il terzo episodio della GabboCraft Scrivetemi nei commenti Se devo fare una farm di polli Perché Dove la dovrei fare? Effettivamente la posso fare in casa La farm di polli Scrivetemelo voi Nei commenti Andate a dormire E ci alziamo quando è mattina Eccoci qui, è mattina Ok, ho ricostruito la miniera Sì, io direi di fare qualche giretto qui E iniziare a Farci del ferro Infatti ho fatto questa G enorme Per indicare che la mia casa sta proprio qua sotto Vedete se andiamo nella nostra miniera di casa Ja raga, ci sta Io direi di farlo da qua Perché anche da qui posso entrare in casa Se ne ho voglia Cosa che non ne ho Io direi di scavare fino a quando non mi si rompe il piccone E raga, proprio a questo punto mi si è rotto il piccone Ho farmato molto ferro Come dovete vedere Prima ce ne avevo forse 4 o 5 Ma non ho fatti E io direi di prendere un poco di legna Perché ne siamo un poco accorti E poi mi faccio tutto quanto in pietra Spada Cicetta E un altro piccone Ah, e con del legno Quello che ho appena preso Io direi di farmi due ceste Proprio due ceste volevo fare Un accampamento sta casa Quindi io direi di rompere un poco questo E metterci della cobblestone Perché ormai ho già promessa tanto Ok raga Eccomi qui Ho già rotto gran parte Qui ho cambiato il materiale Raga comunque ricordatevi di scrivere nei commenti Dove devo fare la farm dei polli Perché ho tanta voglia di farla Come spiegare cobblestone Ah Quanta roba raga Qui devo metterci Tutta sta pietra E' notte Quindi direi di andare a dormire Ci vediamo Quando è mattina Raga eccoci qui Siamo ritornati Io direi di Ho fatto un poco di modifiche qua Ho fatto le scale perfette Io direi di ripiazzare le torce Come erano prima Nuova ascia Appena costruita Appena comprata Appena aperta dalla scatola Andare a rompere Della linea Eh Così è carino Qui c'è tipo un tunnel scavato Andate via Porta di perca Ah Che carino Poi anche è comodo Perché mi ha fatto tre porte Per questo Raga comunque Mi avete dato un buon consiglio Di fare la casa qua Perché è tipo Super comodo Tengo tutto Tanto la porta Stalata In ogni caso Ragazzi Io direi che per questo video Possiamo chiudere qui Se il video Vi è piaciuto Lasciate un pollicione In su Sotto al video Per farmelo capire Iscrivetevi al canale Se volete Vedere altri episodi Di Minecraft Perché ne ho caricati tre Negli ultimi giorni Andate anche a vedere I precedenti episodi Della Gabbo Craft Se non li avete ancora visti E detto questo Ci vediamo Al prossimo video Bella Ciao Grazie a tutti.